Ok, ciao Nico! Ciao Cam! Questa sera c'è il video del muro emozionale a Virtual Palio e se mi puoi dire qualcosa sul vostro elaborato. Allora, il nostro elaborato è proprio un elaborato dei ragazzi, io gli ho lasciato veramente carta bianca, li ho solo come dire seguiti di sponda, ma come faccio sempre da un po' di anni a questa parte e mi sembra che in questo caso fosse proprio fondamentale farlo. E quindi questo lavoro, questo elaborato che loro hanno fatto non riguarda lo spettacolo che faremo al Palio in presenza quando si potrà, perché è stata proprio una decisione loro di non fare pezzi di spettacolo rivisti in video, ma è sostanzialmente una miscellanea delle loro espressioni che sembra non abbia nessun filo conduttore, ma in realtà il filo conduttore è proprio il muro emozionale, cioè sono proprio loro come gruppo. E se vuoi quello che è avvenuto fuori poi, insomma, vedendo il montaggio, è una sorta di sala prove virtuale, è come una muro emozionale experience, quindi dove ci sono tutta una serie di voci, esatto, che parlano e raccontano e vivono e agiscono e improvvisano e insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi, niente, guardateci questa sera alle 20 nel sito del Teatro Club per il Palio virtuale e fra poco ci sarà un link con un piccolo assaggio di quello che vedrete. Grazie.